Il nome lascia poco spazio alla fantasia. Bed and Breakfast, nostra signora di Lourdes, si trova al centro di Roma, a due passi da Piazza di Spagna, a camere con vista sul cupolone, ma anche sul centro della città, ed è gestito rigorosamente da suore. È uno di quegli alberghi dove vanno solitamente turisti che vogliono spendere poco e i religiosi che si recano nella città sacra alla cristianità. Al nostra signora di Lourdes qualche sera fa si sono visti arrivare un signore sulla cinquantina, faccia pulita da diacono e che avrà sicuramente chiesto come prima cosa dove si trovasse la cappelletta per pregare e gli orari. Rientro non più tardi le ore 23, colazione dalle 8 alle 9 con pane, cornetto in busta, latte e caffè. La camera con il bagno, ma se si vuole risparmiare ci sono anche camere con bagno in comune. Il prezzo? Dai 30 ai 50 euro a notte, a seconda della tipologia della camera. L'ospite ha pernotato in una camera singola a due letti con il bagno. Così come si può dormire, ad esempio, nel santuario di San Gabriele della Dolorata, ma lì gestiscono i frati passionisti. L'ospite avrà sicuramente prima pregato e poi si sarà addormentato tranquillamente. E pensare che a qualche centinaio di metri di distanza in linea d'aria c'è un altro albergo, chiamato Albergo del Sole, dove un altro ospite un paio di anni fa si era recato, non da solo, pagando molto di più in un ambiente sicuramente diverso e che per quella notte passata lì, a due passi dall'altro albergo, ha visto nascere e sviluppare uno scandalo che lo ha travolto. I due clienti, al momento del soggiorno, stanno ricoprendo lo stesso ruolo, presidente della regione Abruzzo. I nomi? Luciano D'Alfonso e Gianni Chiodi. Entrambi con una formazione cattolica alle spalle. Uno però molto più clericale dell'altro. Serve specificare chi?